And I'm sure you would agree, what could this well perfectly, then to have a world party on the day you came to be happy birthday! Dà il benvenuto a Fabrizia Paloscia, autrice del libro Fabbrica Etica. Fabrizia, benvenuta! Fabrizia Paloscia, autrice del libro Fabbrica Etica. Fabrizia Paloscia, autrice del libro Fabbrica Etica.